La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro, pace a voi. Detto questo mostrò loro le mani e il fianco e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo, pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo soffiò e disse loro, ricevete lo Spirito Santo, a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli, abbiamo visto il Signore? Ma egli disse loro, se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse, pace a voi. Poi disse a Tommaso, metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco e non essere incredulo ma credente. Gli rispose Tommaso, mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse, perché mi hai veduto tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Non sarebbe meglio se approfondissimo il senso cristiano della mano della donnetta che tocca la statua della Madonna e cercassimo di imparare in che senso questo è o non è un gesto cristiano invece di decidere a priori che, appunto, comincia a scadere nella superstizione. Suoneranno dissonanti agli orecchi dei teologi e dei liturgisti queste parole, eppure la fonte del tutto autorevole, Pierangelo Sequeri, preside della Facoltà Teologica dell'Italia settentrionale. Vi invito ovviamente ad ascoltare l'intera lezione su YouTube dal titolo «La bellezza evangelizzante della liturgia». Però il senso del discorso è un po' questo. Noi occidentali, figli di una religiosità illuminista, abbiamo dimenticato la teologia del gesto. La nostra spiritualità diffida di chi tocca, di chi balla, di chi bacia, di chi stringe mani. Diffida della corporeità ed è legalamente la gestione del sacro e della preghiera. D'altronde, non dice Gesù nel Vangelo di oggi, beati quelli che pur non avendo visto hanno creduto? E così addio ai sensi, di cui gli occhi sono emblema, e spazio alla mente e all'anima che credono senza vedere. Ma se ci si ferma unicamente a questa frase, non si rende verità ad un Vangelo molto più complesso e ricco. È vero che Gesù indica come via di santificazione nella fede cieca, ma questo è il punto d'arrivo. Il resto invece è un vedere, un sperimentare, un toccare. Dirà San Giovanni nella sua lettera «Ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il verbo della vita, perché la vita si è fatta visibile, noi l'abbiamo veduta». Guardiamo allora questo Vangelo nella sua interezza. Non è forse Gesù che si lascia vedere dagli Apostoli? Non è forse Gesù che si lascia toccare da Tommaso? Gesù poteva anche costringere Tommaso a un fidarsi degli altri, poteva scegliere di non farsi vedere, di obbligarlo a credere senza vedere. Invece no, è tornato per farsi vedere da Lui, per farsi incontrare, addirittura per farsi toccare. Com'è bello e sensuale quel dipinto del Caravaggio che ci mostra la mano di Gesù che prende con decisione il dito di Tommaso e lo immerge nella ferita del costato. E lì dietro i due super Apostoli, Pietro e Giovanni, curiosissimi, che guardano quasi ingelositi. Altro che credere senza vedere, qui vogliono tutti vedere. Abbiamo bisogno di vedere, di far vedere la nostra spiritualità vive dell'incarnazione. Concludo con questo passaggio del Cardinal Ravasi. Dio si è reso visibile in un volto ed è per questo che il volto di Cristo diventa un volto ripetuto infinite volte. Se viene un pagano da te e ti chiede com'è la tua fede, che cos'è la tua fede, tu non rispondergli. Prendilo per mano, portalo nell'interno di un tempio della tua chiesa e mostragli i quadri, le immagini. Vedete, Dio è nell'immagine di Cristo che riflette il divino, che riflette il mistero, il trascendente. E questo, ho detto, è possibile soprattutto perché certe volte dovremmo dire che in certe chiese, non sempre, devo dire, stiamo battendo per ritornare a questa, dicevo, sororità tra arte e fede. Ma in alcune chiese moderne, contemporane, è opportuno non far venire i pagani, gli atei, perché perderebbero completamente la loro fede. Grazie. Grazie.